Al via il progetto Chiaravalle Comune Sostenibile. In questi giorni gli studenti dell'Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura, Sviluppo Rurale, Varolizzazione del Territorio e Gestione delle Risorse Montane e Forestali sono impegnati per la realizzazione del progetto Chiaravalle Comune Sostenibile, previsto dal piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto di Istruzione Superiore Enzo Ferrari. I ragazzi, coordinati dalla professoressa Leonia Condello, responsabile del progetto, si stanno occupando della manutenzione ed allestimento delle aree verdi ricadenti nella Piazza Belvedere, Piazza Francesco Meliti e Rotatoria Discesa Foresta. Gli interventi realizzati consistono nella messa a dimora di bordure con piante annuali da fiore. Con entusiasmo i ragazzi, seguiti dai docenti di scienze agrarie e di esercitazioni di laboratorio, stanno vivendo questa esperienza che dà loro la possibilità di svolgere attività di pratiche dopo mesi di didattica a distanza. Sì, un progetto che siamo riusciti a avviare anche se a fine anno scolastico, perché purtroppo conosciamo tutti come l'anno scolastico si è svolto tra un alternarsi di presenza e di didattica completamente a distanza, proprio per rispondere a quelle che sono state le determinazioni della pandemia in atto. Ma è un progetto ambizioso che porta nel titolo proprio Chiaravalle Comune Ecosostenibile e che va proprio a costruire quelle alleanze educative, cui la scuola è chiamata ad intessere con le altre realtà, in modo particolare con l'amministrazione comunale, con le associazioni. Ma noi già da anni abbiamo avviato una proficua collaborazione con gli altri istituti scolastici, con i dirigenti Aloi e Giannotti. Il tutto affonda proprio nel valore dell'autonomia scolastica, un'autonomia che deve essere sempre più una scelta responsabile, una scelta solidale. Questo della pandemia è stato per gli studenti, per la scuola in generale, un tempo della frammentazione, della frammentazione della socialità. I ragazzi che hanno scelto degli indirizzi caratterizzati dall'uso dei laboratori, come l'istituto agrario, come l'istituto tecnico, hanno in parte risentito della non possibilità di frequentare in presenza le attività laboratoriali, sebbene noi ci siamo sempre impegnate a garantirle. In questo momento l'alleanza che è stata appunto siglata, questa alleanza educativa, torno a dire questo patto di comunità, proprio previsto dalle nuove linee guida del Ministero, ha portato i ragazzi a vivere una sorta di didattica del territorio. La scuola ha bisogno di riconquistare dei nuovi spazi, delle nuove formule, dei nuovi tempi. Il fare scuola inevitabilmente ne esce modificato, ne esce trasformato, ne esce, direi io, innovato da quelle che sono le condizioni che l'emergenza ci ha portato a dover affrontare. La sfida educativa della scuola è quella di sempre, mai nessuno è indietro, dobbiamo cercare di formare nuove generazioni e queste sfide non si possono mai vincere da sole, bisogna vincerle facendo rete, facendo squadra. Riconquistare, riconsegnare anche alla città di Chiaravalle questi ambienti, questi spazi, con il lavoro dei ragazzi dell'Istituto Agrario che hanno provveduto alla risistemazione di queste aree verde, alla piantumazione, all'abbellimento. Ne avranno proprio anche la cura per ancora la conclusione, fino alla conclusione dell'anno scolastico e speriamo di riproporlo anche naturalmente per dare continuità nel nuovo anno scolastico. La scuola deve sempre più avere, come dice il Ministro Bianchi, degli sguardi plurimi, deve abbracciare sempre di più questo territorio. Noi abbiamo avuto anche un ottimo riscontro nel numero di nuovi iscritti, presso i tre istituti che fanno punto capo all'Istituto Enzo Ferrari che mi onoro di dirigere e ritengo che questo sia anche una risposta a quello che è stato uno spirito di apertura della scuola verso tutto il territorio. Poi infine un messaggio anche di speranza. Chiaravalle è stata duramente provata dalla pandemia. Lo scorso anno abbiamo tutti sofferto e continuiamo a soffrire per questa situazione. Questo lavoro dei ragazzi vuole anche essere un segno di speranza per guardare alla futuro con un maggiore ottimismo. Naturalmente, dico sempre ai ragazzi ogni giorno, non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna sempre continuare a rispondere con responsabilità a quelle che sono le indicazioni che abbiamo dal Comitato Tecnico Scientifico nel rispetto rigoroso dei protocolli anti-Covid e anche quel lavoro che loro hanno svolto si è realizzato nel pieno rispetto delle regole. Ecco, quindi una scuola aperta al territorio, una scuola che ha continuato, nonostante l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, a rendere gli studenti protagonisti. Come hanno ricevuto questo progetto i ragazzi? Beh, io penso che le immagini che avete avuto modo di girare colgono appieno il loro entusiasmo, il loro desiderio di riconquistare quella socialità che la scuola gli garantisce e di mettersi appunto alla prova con queste attività laboratoriali che rientrano appieno anche in quelli che sono i percorsi per le competenze trasversali, dell'orientamento, la cosiddetta alternanza scuola-lavoro. Ma se i ragazzi hanno partecipato in maniera così entusiasmante è perché hanno trovato degli ottimi motivatori nei loro docenti. Ringrazio in modo particolare la referente del progetto, la professoressa Leania Condello, il professore Altamura, il professore Calabretta, i tutor dell'alternanza e non ultimo un ringraziamento alla referente dell'istituto agrario, la professoressa Ranieri. Un istituto agrario che è interessato come il liceo scientifico a dei lavori di manutenzione straordinaria, con degli interventi molto importanti che riconsegneranno alla comunità chiaravallese, ma a tutto il territorio, alle famiglie, agli studenti, una nuova scuola, una scuola certamente più sicura, un ambiente adeguato per costruire il presente e il futuro delle nostre generazioni. L'acquisizione di competenze tra i banchi di scuola ti consente oggi di metterle in pratica a favore della tua comunità. Sei consapevole del ruolo che voi giovani avete per la riqualificazione e valorizzazione del nostro territorio? Sì, certo, indubbiamente. Il ruolo svolto da noi ragazzi per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente è molto importante, anche per il conseguimento degli obiettivi dell'agenda 2030. L'intersecazione delle attività laboratoriali è appunto la messa in pratica di quello che noi studiamo a scuola nelle nostre materie di indirizzo, appunto perché siamo un istituto professionale per l'agricoltura. Oggi stiamo vivendo un periodo storico caratterizzato dalla mancanza di lavoro e da una situazione economico-sociale disagiata. Come pensi che la scuola possa aiutare e superare tutto ciò? La scuola, grazie allo studio delle materie di indirizzo come la valorizzazione del territorio e l'agricoltura sostenibile, ci ha permesso di sviluppare nuove conoscenze da poter attuare fuori dall'ambiente scolastico un domani nel mondo lavorativo per realizzare nuovi progetti. Questo sempre grazie all'aiuto anche dei fondi europei, nazionali e regionali che hanno indirizzato proprio per noi giovani agricoltori. La scuola che frequentate vi dà la possibilità di approfondire, oltre alle materie comuni, anche i temi legati all'agricoltura sostenibile, alla gestione delle risorse forestali e montane. Pensi che oggi sia utile ed attuale lo studio di queste tematiche? Sì, certamente. Lo studio di tematiche legate all'agricoltura biologica, alla cura delle aree verdi, è molto utile in territori come il nostro. Nonostante il Covid e la didattica a distanza hanno limitato molto le nostre attività pratiche, stiamo cercando di ripartire con attività laboratoriali all'aperto, come queste. L'amministrazione comunale è sempre attenta per quanto riguarda i problemi dell'ambiente, insieme a questo progetto con l'Istituto Ferrari? Beh, sì, direi che l'amministrazione Donato è sempre stata attenta non soltanto ai problemi ambientali, che in questo momento è testimoniato dalla piantumazione di queste bellissime piantine. L'attenzione c'è sempre stata e c'è stata soprattutto la sinergia con l'Istituto Ferrari. Non dimentichiamo che da quando ci siamo insediati con tutti i dirigenti degli istituti Chiaravallesi, il Sindaco ha instaurato un rapporto di sintonia e di sinergia e quindi quando si tratta di collaborare per mettere in atto dei progetti, si è naturalmente subito disponibili. I ragazzi dell'Agraria in questo momento hanno dato prova davvero della volontà di rendere, oltre che di abbellire i nostri siti, ma anche di essere legati al nostro territorio e soprattutto di voler dare visibilità al loro istituto e all'importanza che deve avere l'Istituto Agrario oggi, ma per il futuro di Chiaravalle. Si è parlato infatti di rilancio degli istituti Chiaravallesi. Io direi che semplicemente che chi non ha seguito dall'interno, chi non segue, chi non vive dall'interno queste cose, non può rendersi conto di quanto si stia lavorando insieme e di quanto si continua a progettare per il futuro. Gli istituti hanno già quest'anno registrato un grande incremento di iscrizioni perché l'Istituto Ferrari, ricordiamo, ha registrato un 33% in più di iscritti. Questo è un grandissimo segnale per le istituzioni presenti qui sul territorio. È il segnale che davvero si sta operando bene. Si sta operando per quanto riguarda il settore strutturale degli istituti e si sta operando anche in campo ambientale. I siti di cui si occuperanno i ragazzi dell'Agraria, qui Piazzetta Belvedere, hanno fatto un bellissimo lavoro a Piazza Calvario dove noi ricordiamo che il degrado ha imperato per anni e quindi l'abbandono. Oggi noi interveniamo insieme alle scuole per dare a questi siti chiaramente una visibilità e chiaramente un'armonia del nostro Paese. Come dicevo, la collaborazione c'è e continua ad esserci. L'attenzione dal punto di vista ambientale e non solo perché le scuole di Chiaravalle sono presenti, da ultimo i bandi a cui abbiamo partecipato, in tutti i progetti del Comune di Chiaravalle. L'amministrazione Donato sta partecipando a bandi, ma i partner privilegiati sono le scuole. Perché se parliamo di STEM, se parliamo di povertà educativa, se parliamo di comunità educante è chiaro che noi non possiamo che interloquire con le scuole e quindi lavorare insieme e lavorare in sinergia. Lo spettacolo che stiamo vivendo questa mattina è davvero significativo perché capiamo quanto sia importante che la comunità percepisca la presenza delle scuole. e quindi noi siamo grati al dirigente Candelieri e ai docenti che si sono chiaramente impegnati insieme a noi, ma diciamo che la parte principale e la parte preponderante poi l'hanno fatta loro. Quindi un grazie ancora al dirigente per averci coinvolti e grazie ai docenti che hanno la professoressa Condello che ha seguito i ragazzi nella piantumazione e nella posizione delle piante.